A settembre è nata a Venaria una nuova associazione, il gruppo Astrofili Venaria Reale. Qual è il suo intento o quali gli obiettivi a chi si rivolge? L'intento è quello di riunire una serie di persone interessate all'approfondimento dell'astronomia per poter riunirsi tutti, vedere e conoscere questa stupenda materia. Sicuramente quindi è rivolta agli appassionati ma anche a chi vuole conoscere questa materia, l'astronomia. Sì, certo, è una scienza molto bella, ci permetterà sicuramente, dando dei primi rudimenti, di poter effettuare un'astronomia pratica in quanto ci consentirà tramite opportuni strumenti, telescopi, binocoli e quant'altro, di poter anche dedicare il nostro tempo, le nostre serate, alla visione del cielo e delle stelle e di quant'altro riusciamo a organizzare. Quindi un'introduzione a quando si alzano gli occhi al cielo, riconoscere quanto ci sta appunto sopra di noi. Esatto, purtroppo qui da Venaria abbiamo un certo inquinamento luminoso che quindi non ci consentirà se non solo gli elementi più luminosi, gli oggetti più luminosi poter essere osservati, ma organizzeremo sicuramente delle uscite un po' fuori città in maniera tale che il cielo possa essere visto in tutta la sua bellezza. In particolare a chi si rivolge? Si rivolge a tutti quelli che sono interessati dei 10 anni fino ad arrivare agli adulti di 90. Oltre le uscite l'associazione si propone di organizzare alcune serate di approfondimento. Sì, dovranno essere dati i primi rudimenti che consisteranno essenzialmente in alcuni incontri serali che faremo a partire da gennaio presumibilmente e consentirà a coloro i quali non hanno mai avuto nozioni di astronomia di acquisire le cose basilari. L'associazione ha inaugurato la propria attività con una serata in cui il professor Walter Ferreri ha tenuto una lezione di astronomia. Sì, il professor Walter Ferreri è ben noto in Torino in quanto è direttore dell'osservatorio di Pino Torinese. È stato per me uno dei grandi professori da cui ho avuto parecchie indicazioni e parecchie elementi per approfondire le mie nozioni di astronomia. È stato veramente molto bello averlo qui quella serata. Ed infine per chi volesse rivolgersi all'associazione cosa deve fare? Ci rivolgiamo a scuole, gruppi, studenti. Si prega di rivolgersi al presidente dell'associazione, il signor Giorgio Broglio, il cui cellulare è 335-8288-077. Questa è la prima riunione che fa il circolo Astrofini di Veneria Reale. Cominciamo la grande con il professor Walter Ferreri, che per chi non sa è il presidente dell'osservatorio astronomico di Pino Torinese. È responsabile delle relazioni pubbliche. È responsabile delle relazioni pubbliche. Altro? Basta. Basta così. Poi questa cosa l'abbiamo ideata noi come Astrofili, è stata patrocinata dal comune di Veneria, e poi vi do le locandine che devo averle messe in qualche posto. E intanto le due focine. Primo abbiamo di forza Imperio, lo abbiamo eletto socio onorario con la tessera, e questo è il gettino qui. Grazie, grazie. E poi questo è il patrocino di Veneria, che è... Ah, bellissimo. Che bellissimo. Molto bello. E non è merito mio, ma è del comune, e sono quei signori lì che ne sono due del comune. Grazie, molto bello. Bellissimo, grazie. Adesso la parola a lei. Va bene. E' stato direttore, sì, 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 è stato tre direttori fa. Sì, sì, sì. Allora, buonasera, buonasera a tutti, e grazie per essere qua. Fa sempre piacere sapere che nasce un nuovo gruppo di Astrofili, perché vedo con molta soddisfazione che la passione per l'astronomia sta aumentando, e questa è veramente una notizia positiva. Adesso non voglio tediare nessuno raccontando delle cose che avvenivano quando io ero giovane, però mi limito soltanto a poche frasi, dicendo che quando io ero un ragazzo di 16-18 anni avevo cercato delle associazioni a Torino e ne avevo trovato. Poi ne avevo trovata una, ma con grande difficoltà, ma che era, diciamo, abbastanza molto, molto tranquilla, cioè era un'associazione più sulla carta che non sull'osservazione del cielo. E erano delle persone, devo dire, per lo più anziane che si riunivano ogni tanto, ma erano proprio quattro gatti, come si suol dire, tre o quattro, non sono mai riusciti a vederne di più assieme. E questo avveniva ben inteso negli anni 60. Adesso, invece, vedo con piacere che ce ne sono tantissimi appassionati del cielo, anche persone abbastanza esperte. E alle volte, andando a parlare da diverse parti, trovo, dalle domande, alcune osservazioni che mi fanno, trovo che vi siano persone che hanno una preparazione che non si discosta sensibilmente da quella di un professionista. Quindi vuol dire che molte persone che affrontano l'argomento veramente a fondo, con un piglio, direi, notevole, e facendo anche delle scoperte considerevoli. Non dimentichiamo che oggigiorno anche degli appassionati, non solo oggigiorno, ma ancora di più oggigiorno, riescono a fare dei lavori che una volta erano solo a pannaggio dei professionisti. E questo è dovuto sia al maggior interesse verso la scienza del cielo, e sia al maggior approfondimento che in genere tendono ad avere. Comunque, mi limito qui con questa premessa, si era concordato di parlare, di fare un discorso generale sul cielo, una cosa introduttiva, e io ho portato una serie di immagini dove andiamo dal sistema solare fino agli astri più remoti che conosciamo, dicendo qualcosa così sull'uno e sull'altro. Io cercherò però di non essere troppo accademico e soprattutto non dire cose troppo scontate come si trovano i testi scolastici, ma magari con una curiosità qua e là, se voi siete d'accordo, tanto per variare un pochettino il discorso. Bene, allora iniziamo a vedere qualcosa. Dunque, non so se mi metto qui, per voi va bene? Mi sentite tutti? Sì. Va bene. Allora, iniziamo a un'immagine abbastanza classica, cioè un disegno delle orbite dei pianeti nel nostro sistema solare con le loro dimensioni rispetto al sole. Ecco, queste sono cose, ho notato oggigiorno abbastanza note, un po' a tutti, un po' tutti hanno un'idea più o meno che il sole è l'oggetto più grande, l'astro più grande che c'è nel sistema solare, poi i pianeti in genere non si conoscono le dimensioni, ma questo è poco imporato. L'importante è avere un ordine di grandezza, ecco. E poi vediamo qui le loro dimensioni appunto dei pianeti rispetto al sole e poi le loro orbite che avvengono tutte nello stesso senso. E qui abbiamo, siccome questa qui è una mappa che è stata fatta un po' di anni fa, abbiamo ancora Plutone con la sua orbita un po' particolare perché era ancora considerato un pianeta maggiore. Infatti lo è stato, lo è stato considerato fino al 2006 quando c'è stato a Praga l'Unione Astronomica Internazionale, il convegno, che ha declassato appunto questo corpo. Secondo me giustamente, devo dire, perché è molto piccolo, il più piccolo della nostra Luna e poi appunto un'orbita particolare e soprattutto sono stati scoperti degli oggetti che sono più o meno grandi come lui. Quindi questo vuol dire che in realtà appartiene a una classe di oggetti che è molto numerosa e che si discosta abbastanza da quella dei pianeti. Bene, andiamo avanti. Vediamo qui le enormi differenze tra i pianeti giganti gassosi e quelli invece terrestri. Cioè abbiamo veramente le differenze enormi. Le differenze però, attenzione, che sono dovute all'atmosfera essenzialmente, mentre la superficie solida si ritiene che non sia sensibilmente diversa. Ad esempio, per quanto concerne Giove, il nucleo roccioso che dovrebbe avere è più o meno un po' più grande della Terra, o qualcosa del genere. E lo stesso dicasi per gli altri pianeti. Quindi in realtà ciò che fa apparire a grandi questi pianeti, cioè lo sono effettivamente, non è soltanto che appaiono, ma ciò che li rende così grandi è l'estesa atmosfera gassosa, soprattutto di idrogeno ed eglio. Tra l'altro, a proposito di idrogeno ed eglio, molti dicono, ma Giove è una stella mancata. E questo lo si trova scritto da diverse parti, non avrete notato, Giove è una stella mancata, eccetera. Io non condivido molto questa affermazione, perché le stelle più piccole che noi conosciamo hanno una massa che è circa 80 volte quella di Giove. Quindi c'è una differenza enorme, c'è quasi, diciamo, un cento volte. Tra l'altro tra Giove e il Sole c'è un fattore mille, quindi non è che è da poco. Quindi secondo me non si può tanto definire una stella mancata, in quanto gli manca veramente tanto. Se noi diciamo che un gatto è una tigre mancata, facciamo una sproporzione minore, tanto per intenderci. E qui c'è il nostro caro Sole che adesso sta un pochino ravvivandosi come attività. Questo era l'ultimo massimo che c'era stato, vedete, 2001, e qui dei bei gruppi di macchie solari. E con una visione così del Sole si può avere anche con uno strumento amatoriale, uno strumento abbastanza piccolo, non bisogna avere uno strumento grande. Tra l'altro abbiamo che l'attuale ciclo solare, il ventiquattresimo, che è iniziato in ritardo, almeno in ritardo secondo le nostre previsioni, bisogna dire che sta incominciando ad avere una certa importanza, però sembra che non potrà arrivare ai livelli del massimo passato. Qualcuno ha pronosticato che potremmo andare verso un minimo di maunder in futuro, in futuro però abbastanza prossimo. Ecco, ricordo, forse è bene ricordare, che il minimo di maunder è quel minimo che c'è stato sotto praticamente dal 1645 al 1715. In quel periodo c'è stato un minimo di attività solare veramente notevole, era rarissimo vedere qualche macchia solare. In concomitanza con questo aspetto c'è stato anche un abbassamento di temperatura sulla Terra, di circa un grado, in grosso modo, che però globalmente non è poco. Questo vuol dire che se dovessimo andare verso un minimo del genere, dovremmo attenderci dal comportamento del Sole in futuro un abbassamento di temperatura sulla Terra, quindi in futuro si potrebbe avere una Terra un pochino più fredda, leggermente più fredda, per l'attività solare, è ben inteso. Quindi questo mette a tacere un po' tutti i catastrofisti che avevano affermato che nel 2012 sarebbe stato un'attività solare particolarmente intensa. Questo non è previsto, tra l'altro il prossimo massimo pare che sia verso il maggio del 2013, non più 2012, quindi è un po' spostato. Questa è una bellissima immagine famosa del Sole ripreso con un filtro speciale dove abbiamo una grande protuberanza d'arco e dei brillamenti. Un'immagine non proprio così ma abbastanza simile a questa si può avere con degli strumenti anche piccoli che hanno un filtro speciale che ci lascia passare la relazione dove emette soprattutto l'idrogeno, la linea alfa dell'idrogeno e queste protuberanze si possono vedere con una certa frequenza non in genere così ampie, normalmente si vedono di questa ampiezza. comunque è già uno spettacolo interessante e beninteso appaiono fermi alla vista, si spostano ma si spostano guardando da un giorno all'altro. È un po' come dire che noi vediamo la luna spostarsi in cielo ma non la vediamo mentre guardiamo che si sposta la notiamo guardando da un po' di tempo. Qui un'eclisse totale di Sole è un fenomeno veramente molto bello ma ahimè anche molto raro per l'Italia. Non che noi siamo trattati peggio dal cielo e proprio dipende dalla superficie dell'Italia l'Italia è abbastanza piccola rispetto a molte altre nazioni è un trentesimo degli Stati Uniti quindi statisticamente un'eclisse totale di Sole avviene in una frequenza di una frequenza 30 volte minore e in effetti non so se qualcuno di voi ha mai visto un'eclisse totale di Sole penso pochi credo non molti perché bisogna in genere andare proprio recarsi in un luogo apposta per vederla perché in Italia l'ultima è venuta nel 61 e la prossima volendo fare i pignoli perché lì sono stato un po' redarguito da uno che aveva ragione tra l'altro perché io ho detto che la prossima anzi l'ho anche scritto la prossima per Italia sarebbe stata nel 2081 e un astrofi perché alcuni astrofi sono veramente molto precisi e hanno ragione di esserlo per carità ho detto ah no ma guardi che non è il 2081 il 2027 in effetti andando a guardare ho verificato che aveva ragione perché il 2 agosto del 2027 ci sarà un'eclisse totale di Sole che lambirà una porzione di Lampedusa che è territorio italiano e su questo è vero quindi Italia effettivamente ha ragione quindi il 2027 se andate a Lampedusa ecco potrete vedere un'eclisse totale di Sole se invece non volete aspettare tanto così potrete recarvi nel 2012 infatti dico 2012 in Australia è un po' fuori mano e lì ci sarà un'eclisse di questo tipo il 13 novembre per l'Europa invece la prossima sarà nel 2015 sarà purtroppo nel Faroeir cioè tra la Scozia e l'Islanda anche lì non sarà proprio fuori uscio non sarà in Francia o Svizzera comunque secondo me e credetemi non voglio assolutamente fare pubblicità all'agenzia di viaggio però secondo me se uno non ha mai visto una vale la pena fare un viaggio almeno una volta nella vita per vedere uno di questi fenomeni perché c'è poi tutta una serie di vicende collegate come ad esempio l'apparizione dei pianeti quando diventa abbastanza buio ad esempio io ho notato che in genere Venere appare 5 minuti prima della totalità poi quando si è totale si vede Mercurio le stelle come stelle però devo dire che io non sono mai arrivato durante l'eclisi a vedere quelle di seconda magnitudine so quelle di prima stelle come la polare non l'ho mai vista ad esempio durante l'eclisi quindi diventa buio ma un buio non come di notte ecco come un crepuscolo lì ho avuto ad esempio discussioni con altre persone secondo le quali diventa abbastanza buio secondo me il buio che c'è è circa almeno 100 volte più luminoso secondo me di una notte di luna piena quindi è un spettacolo affascinante però non è proprio buio buio insomma bene andiamo avanti questa qui è una foto dell'eclisse del 2006 che si vedeva dal Mediterraneo abbiamo fatto abbiamo partecipato a una crociera tra Cifro e Creta non è possibile vederla come totale si vedeva molto bene in Libia dove sono andati i miei colleghi e per l'occasione Gheddafi ha pensato bene mettere una tassa sull'eclisse di 100 Euro per gli stranieri che erano lì è una persona abbastanza no tra l'altro ne ho approfittato mentre quando ero in Libia ricordo nel 2006 parlo adesso le cose sono cambiate così per curiosità ho chiesto quando era il prezzo della benzina era 7 centesimi al litro e ho detto quasi come in Italia più o meno la stessa cosa andiamo avanti vediamo adesso i pianeti iniziando da Mercurio questa è ancora una foto fatta dalla prima sonda che è arrivata su Mercurio il Mariner 10 nel 74 ed è un mosaico di foto vedete sono tante foto messe assieme e sono le prime praticamente le prime foto che ci hanno mostrato i crateri di Mercurio che ricorda molto la Luna in effetti così di primo acchito comunque adesso grazie al miglioramento che ci sono stati negli strumenti nelle tecniche di ripresa è possibile fotografare le macchie di Mercurio anche con strumenti amatoriali pensate è incredibile questo Mercurio sapete è un pianeta anzi adesso dopo che Plutone non c'è più è il pianeta più piccolo del sistema solare e ovviamente è come sappiamo il più vicino al sole intorno al quale orbita mediamente 58 milioni di chilometri è sempre un pianeta un po' difficile da vedere tant'è vero che io ad esempio ho smesso di farlo vedere ai visitatori dell'osservatorio a Pino questo di giorno perché ho smesso perché succedeva che qualcuno lo vedeva e qualcuno no perché era un po' al limite allora veniva a crearsi questa antipatica differenza diciamo ma io non riesco a vederlo allora dico vabbè lasciamo perdere non l'ho fatto invece Venere si vede benissimo anzi molto vistoso ecco qui abbiamo appunto un'immagine sempre di questo pianeta vedete abbastanza questo qui grazie anche alla sonda Messenger un'altra che ha fatto altri rilevamenti con delle zone appunto che mancano questo è un disegno fatto nell'ottocento quando Mercurio passa davanti al sole e qualcuno aveva ravvisato un'aureola luminosa e una macchietta bianca e si pensava che questo fosse un vulcane in eruzione e questa è un'atmosfera in realtà entrambi si sono rivelate illusioni ottiche dovute al forte contrasto tra il dispetto nero e l'abbagliante superficie solare questa invece è una serie di foto sempre durante il passaggio di Mercurio sul sole vedete qui passa davanti una macchietta solare ecco purtroppo in questa foto non si nota ma se noi quando noi osserviamo direttamente uno di questi fenomeni possiamo notare una cosa molto appariscente che Mercurio appare molto più nero delle macchie solari cioè si nota che le macchie solari non sono nere sono semplicemente meno luminose ma si vede che il dischetto del pianeta è molto più nero molto molto più nero ed ecco Venere questa è un'immagine classica del pianeta è un pianeta molto luminoso e talvolta si può vedere a occhio nudo in pieno giorno io purtroppo non ho una vista acuta però sono riuscito a vedere anzi indicandolo diverse persone poi lo vedevano si dice guardate di quella direzione eccetera questo però quando raggiunge il massimo di visibilità comunque il fatto che si possa vedere a occhio nudo in pieno giorno è risaputo già da parecchio si racconta ad esempio che accade a Napoleone che era tornato vittorioso dalla sua campagna mi pare non so se in Belgio mi pare e che a un certo punto faceva un discorso alla folla si era accorta che la gente guardava un'altra parte allora ha chiesto a seccate ma perché non guardano me e ci stanno guardando il pianeta Venere che si vede e la cosa l'avrà un po' seccata ovviamente data la sua prosopopea però era così insomma questa è una foto di Venere fatta da una sonda spaziale il Pioneer Venus che ci mostra le irregolarità nelle nubi queste irregolarità si possono vedere anche con un telescopio amatoriale se si mette possibilmente un riflettore mettendo un filtro azzurro blu o anche leggermente violetto non occorre neanche un grande strumento anche un piccolo strumento permette di vederle il pianeta praticamente si può vedere quasi sempre anche quando è molto vicino al sole se l'atmosfera è molto limpida è un pianeta che ha in comune con la terra le dimensioni è grande quasi come la terra quindi siamo lì purtroppo però le somiglianze finiscono lì tra l'altro una cosa interessante da dire è che io lo dico perché come vi dicevo voglio anche parlare un po' di curiosità varie di pieghe non sempre non fare il libro di testo ecco una cosa che aveva stupito diversi osservatori allora in passato il fatto che era stato avvistato un satellite di venere ora noi sappiamo che venere non ha satelliti e una cosa che a me è capitata pochi giorni fa è stato provando uno strumento uno strumentino in questo caso io guardavo Giove notare che aveva c'era una macchiolina vicina e normalmente la macchiolina è una riflessione c'è una riflessione però se uno sposta lo strumento la riflessione si sposta non so se vi spiego allora in questo caso ho spostato lo strumento e non si spostava ho provato a cambiare l'oculare e rimanere lì e ho detto ma strano che vicino a Giove ci sia un oggetto che era luminoso come un oggetto di quinta magnitudine insomma poi ho provato a cambiare anche il prisma eccetera rimaneva sempre lì e poi puntando altre stelle luminose ho visto che c'era questa immagine debole che era sempre fissa a una certa distanza da ciò che la produceva però la cosa curiosa è che praticamente rimaneva sempre alla stessa distanza io penso che qualche osservatore meno esperto per quanto concerne Venere abbia magari subito un fenomeno del genere abbia avuto una riflessione di quelle che non si spostavano e quindi il supposto satellite possa essere spiegato in qualche caso così per quelli più esperti come ad esempio per il Cassini è stato proposto che lui abbia visto il pianeta Urano che non era ancora conosciuto all'epoca e che era proiettato nella stessa direzione queste sono le spiegazioni che sono state date poi c'è stata ancora una però questa è dovuta a un grande osservatore americano il Barnard che osservava con un telescopio molto molto grande e che in questo caso è stato spiegato a questo oggetto che sembrava puntiforme vicino a Venere che lui aveva visto in condizioni anche molto disagi come evidentemente una nuova che era apparsa in quella direzione e questa è una spiegazione che insomma potrebbe anche essere in effetti e qui abbiamo il nostro pianeta con tutti questi puntini bianchi che l'avrete immaginato sono i satelliti che noi abbiamo messo intorno abbiamo messo tanta roba intorno e beh siccome non eravamo paghi di aver inquinato la superficie perché non inquiniamo anche lo spazio circostante è una buona idea questa mi sembra comunque al di là delle battute diciamo che oggigiorno ci sono circa 20 mila oggetti in orbita fino alla dimensione di un guanto grosso modo quello che riesce a seguire il NORAD mentre quegli attivi in realtà sono molto meno sono molto meno anche di mille e il problema è che soprattutto con quegli bregli esperimenti sulle guerre stellari facendo esplodere dei satelliti bersaglio si è provocato una grande quantità di frammenti che possono essere pericolosi per gli astronauti perché se si incontrano le velocità che hanno possono perforare facilmente una tuta e quindi questo incomincia a essere un pochino un problema soprattutto se la cosa continuerà quindi bisogna fare attenzione a non inquinare più di tanto in futuro perché ripulire poi è una cosa costosissima insomma ecco vedete che più o meno la distanza che hanno dalla superficie terrestre è abbastanza simile per la maggioranza tra l'altro un oggetto che si vede molto bene la stazione spaziale internazionale l'avete già vista molto bella e a volte anche molto luminosa questa orbita non tanto lontana non tanto alta sui 350 chilometri e quindi a volte si vede luminosissima è proprio molto molto luminosa a proposito di Terra c'è una cosa che forse non tutti sanno si dice giustamente che la Terra ha uno solo grande satellite naturale non la Luna questo è abbastanza noto e quello che forse è meno noto è che la Terra talvolta ha un altro satellite e un asteroide che cattura al Sole e che per un po' di anni si tiene come satellite è un satellite a mezzo servizio diciamo è piccolo è sui 20 mesi era grande sì come praticamente questo locale quindi è veramente molto piccolo che si pensava potesse essere un frammento di un razzo invece no è proprio un oggetto naturale che però poi il Sole si riprende ha una sigla non ha un nome 2003 poi mi pare NH comunque l'ho segnato se qualcuno è interessato gli posso dare la sigla completa di questo oggetto questa è una foto fatta dagli astronauti dove vediamo come la Terra appaia molto luminosa grazie al manto nuvoloso e questa è poi quella foto classica dell'Apollo 8 che è appunto della Terra vista da un'orbita lunare e questa poi dove qualcuno ha anche detto ah ma le prime missioni Apollo non sono andate sulla Luna i primi è vero hanno ragione infatti il primo è stato l'Apollo 11 ma appunto gli altri il 10 il 9 e 8 non sono atterrati comunque poi magari dicono anche altre cose che lascia un po' il tempo che trovano alcuni dicono ah non sono andati sulla Luna perché le foto che hanno fatto gli astronauti nelle foto non compaiono le stelle e beh certo non compaiono l'esposizione era per la superficie lunare che è illuminata come è illuminata appunto come la Terra tra l'altro ho notato che coloro che fotografano per la prima volta la Luna danno una posizione molto forte molto superiore a quella giusta e mi è successo il caso di un signore che ha detto ma io ho fotografato la Luna e mi sono venuti due lune mi vengono due lune e mi ha fatto piacere l'abbondanza allora mettiamo un po' queste foto e allora ho visto queste foto e ho capito perché c'erano due lune lui aveva un'esposizione così forte che c'era una riflessione che dava a furito una seconda luna poi c'è stato un caso veramente incredibile di una signora venuta all'osservatorio la quale mi ha detto mia figlia ha fotografato un oggetto e se è possibile capire cos'è vediamo queste foto ho visto le foto e l'oggetto misterioso era la Luna e questa qui naturalmente si aspettava una risposta diversa io l'ho molto delusa tant'è vero io mi riservo allora di chiedere a qualcun altro perché io avrei dovuto dire guardi questa qui deve essere un'astronave aliena che è venuta a distanza ravvicinata invece non gli ho dato la risposta che desiderava e così vabbè non sempre si può dare soddisfazione allora andiamo avanti e questa è la Luna come si può vedere con un piccolo strumento si vede già una grande quantità di dettagli adesso questa qui dovete avere pazienza è girata di 90 gradi cioè il nord sarebbe qua e qui abbiamo adesso era quasi piena e si vedono queste zone che si vedono molto bene ma per vedere la Luna così basta uno strumento veramente piccolo assolutamente molto molto piccolo e l'osservazione della Luna secondo me è una delle più gradevoli e delle più appassionanti perché anche con come dicevo con un piccolo strumento è un'atlante lunare si possono seguire diciamo queste formazioni e soprattutto è incredibile come varia l'aspetto come variare l'altezza del Sole cioè un giorno un cratere appare profondo già il giorno dopo si vede che sembra quasi diciamo quasi senza rilievo ecco incredibile la differenza che ci sono quasi non ci si crederebbe se non si vedessero di persona qui abbiamo invece una foto della Luna all'ultimo quarto e qui naturalmente ci sono molto di più le formazioni in effetti i quarti sono le fasi migliori per vedere la Luna la gente a volte a noi chiede all'osservatore diciamo posso venire quando c'è la Luna piena così c'è la Luna piena chissà che è meraviglia e noi diciamo guardi che in realtà è da più soddisfazione quando è intorno al quarto in effetti è una cosa che chiaro uno non ha esperienza non ha idea comunque una cosa che colpisce vedere la Luna è una enorme quantità di crateri che è stato stimato sia almeno un 30.000 almeno fino alla dimensione di un chilometro questo naturalmente è soltanto nella faccia rivolta verso di noi che è quella meno craterizzata tra l'altro pensate questa è una bella sequenza di foto che ci dà un'idea di come si aggrade l'ombra della Terra quindi la Luna durante un'eclisse che passa un'eclisse quindi parziale in questo caso non tutta viene stata coperta ecco pensate che nell'antichità ai parco di Nicea verso il 150 a.C. era riuscito a determinare le dimensioni e la distanza della Luna dall'eclissi lui conosceva le dimensioni della Terra è chiaro bisogna avere un dato di partenza dimensioni che erano state misurate 50 anni prima da Eratosteni però che secondo me questa sequenza è molto bella perché visualizza benissimo l'ombra terrestre e a questo proposito ci sarà un'eclisse totale di Luna però per noi visibile solo in parte il 21 dicembre è fra poco più di due mesi però al mattino verso le 7 del mattino sarà una cosa un po' non tanto notevole perché la Luna tramonta invece una bella eclisse molto bella per noi ci sarà il 15 giugno del prossimo anno eclisse totale di Luna quella interamente visibile dall'Italia avremo invece prima il 4 gennaio un'eclisse parziale di Sole però parziale notevole il 75% del disegno solare verrà coperto questa è una foto di un'eclisse di Luna durante la quale vedete la Luna appare diciamo mostra questa colorazione rossastra per i raggi rifratti dell'atmosfera terrestre che appunto entrano all'interno del cono d'ombra e a questo proposito un astronomo francese del secolo scorso André Dangeon aveva trovato una correlazione tra la fase del ciclo solare e l'oscurità dell'eclissi di Luna pensate aveva trovato che in certi periodi erano più chiari o più scuri questo è Marte come ci piacerebbe poterlo vedere con un telescopio dal suolo però purtroppo questa è una visione che va un po' al di là questa foto è stata fatta col telescopio spaziale e abbiamo qui in questo caso il nord in alto questa è molto dettagliata come immagine Marte è tipicamente un pianeta che delude molto il visitatore perché la gente quando viene da noi magari dice Marte ah sì vediamo Marte accidenti il pianeta dove si pensava fossero i marziali tutti entusiasti poi quando lo facciamo vedere al telescopio dico ma è quel pallino piccolo noi si pensano di vedere una cosa tipo questa e rimangono delusi è un po' la stessa delusione che hanno nel vedere le galassie a parte il fatto che far vedere le galassie da noi da Pino è veramente è un suicidio perché con l'inquinamento luminoso che abbiamo la delusione è assicurata e quindi in genere non le facciamo vedere ecco questa diceva Marte col telescopio spaziale Hubble purtroppo in questi anni Marte si mantiene sempre molto lontano da noi c'è stata un'opposizione quest'anno però era parecchio lontano e anche fra due anni le cose andranno ancora peggio purtroppo questo è un asteroide abbastanza grande si chiama Ida sui 52 km di lunghezza col suo satellite dattilo e qui devo dire che purtroppo la proposito di satelliti di asteroidi devo ricordare una mia previsione errata devo ammetterlo infatti quando si pensava che potessero avere i satelliti io ho detto ma secondo me è improbabile che ne abbiano perché la loro forza di gravità è talmente debole magari gli incontri ravvicinati che hanno avuto sono stati talmente numerosi che eventuali satelliti saranno stati persi e invece no invece l'esperienza dimostra che ne hanno anche parecchi una cosa che ha sorpreso un po' tutti quelli che si occupavano di asteroidi è l'aver notato come siano molto smussati vedete non abbiamo delle creste delle picchi a guzzi questo ovviamente non solo denota evidentemente la notevole età di questi oggetti ma anche il fatto che abbiano avuto molti scontri con particelle minori ecco qui il gigante nel nostro sistema solare e questa foto è stata fatta da un appassionato come un 40 cm di diametro e tra l'altro Giove adesso si vede molto bene penso che tutti voi abbiate notato come appare vistoso anche perché è proiettato in una costellazione quella dei pesci che è povera di stelle luminose quindi spicca moltissimo e infatti c'è gente che ha anche telefonato dicendo ma cos'è quell'aggetto che si vede così luminoso eccetera eccetera e questa foto è stata fatta mentre c'era l'eclisse in corso vedete questa è l'ombra di Ganimede che tra l'altro mostra anche qualche dettaglio vedete il disco non è completamente omogeneo qui c'è la celebre grande macchia rossa come vedete con la fascia che questa qui sarebbe in realtà quella lì tropicale sud perché qui abbiamo il sud in alto che adesso è praticamente scomparsa ancora ancora praticamente invisibile dovrebbe ritornare adesso forse fra qualche mese molti di voi ricorderanno queste tracce lasciate dalla caduta dei frammenti di una cometa la Schumacher-Levy nel 94 comunque impressionante anche qui come effettivamente questa cometa abbia lasciato ah scusate qui sono già andato troppo avanti abbia lasciato dei segni così vistosi tant'è vero che a una storia che mi ha chiesto quando si era prevista questa caduta mi ha detto ma dice allora potrò vederla con il mio strumento e io ho detto ma sarà difficile con un piccolo strumento invece si vedeva anche con un piccolo strumento questi segni pensate ecco la meraviglia del sistema solare purtroppo quest'anno è stata un po' meno meraviglia perché l'anello era di taglio quindi si vedeva come era successo al povero Galileo che praticamente l'ava seguito poi a un certo punto non ha più visto qualcosa ai lati non capiva come mai è morto senza sapere dell'esistenza dell'anello qui invece abbiamo l'anello alla massima apertura tende addirittura a sbordare vedete oltre il bordo della calotta questa qui questa è una foto fatta dal telescopio spaziale Hubble che quindi è molto molto dettagliata però bisogna dire che Saturno dà soddisfazione anche con un piccolo strumento l'immagine è veramente entusiasmante infatti io penso che sia sicuramente l'oggetto che appassioni di più per chi guarda per la prima volta il cielo un astro al telescopio secondo me Saturno è quello che fa più scalpore qui abbiamo Urano e purtroppo per Urano non si può dire lo stesso tanto per cominciare gli anelli non si vedono al telescopio in condizioni normali e poi il disco è molto molto piccolo si vede proprio un dischetto piccolo è tant'è vero che alle volte se uno guarda distrattamente è anche difficile riconoscerlo da una stella tra l'altro in questo periodo Urano si trova prospetticamente vicino a Giove nella stessa direzione qui abbiamo una foto di Urano fatta dal Voyager 2 che mostra appunto questo disco molto molto uniforme e questa uniformità ha messo un po' all'agonia alcuni astrofili che l'havano disegnato con i loro strumenti con diversi dettagli diciamo ah vedo di questo quello e invece evidentemente questi dettagli sono molto molto tenui e invece su Nettuno sono un pochino più marcati questa è la famosa grande macchia scura qui è sempre il Voyager 2 l'artefice che è arrivato alcuni anni dopo a proposito del Voyager 2 vi racconto una cosa che era successa quando questa sonda appunto è arrivata in 89 che la Rai aveva pensato bene di mettersi praticamente in contatto con la NASA per trasmettere le fasi dell'avvicinamento appunto della sonda a questo pianeta remoto dove appunto erano stati occorsi 12 anni per arrivare pensate e cosa ha pensato quella della Rai ha detto ma lo facciamo quando la sonda è più vicina la cosa sembra abbastanza logica ma c'era un piccolo particolare che la sonda era più vicina quando era dietro e poi diceva ma non riceviamo nessuna immagine non si capisce come mai e noi che eravamo abbastanza cattivi eravamo lì non ce la facevamo più e poi qualcuno di noi ha telefonato non so quale osservatore ha detto guardate che è così così e adesso è stato spiegato l'arcano perché ogni tanto ci sono quelle di Rai ogni tanto vanno queste cose curiose ad esempio una volta era sul TG2 hanno detto che c'era un'eclisse di luna visibile dalla Cina e che era corretto era assolutamente vero quello che dicevano però per il telespettatore italiano sarebbe stato più interessante sapere che quell'eclisse era visibile anche dall'Italia ecco perché loro hanno preso la nota all'agenzia e come è arrivata in maniera critica l'hanno sbattuta così l'hanno comunicata comunque devo dire che qualcuno riesce ancora a fare o peggio meglio tipo ad esempio era stato il TG4 che della distanza di una cometa ha dato nello stesso telegiornale tre distanze diverse tutte e tre sbagliate questa cometa che era passata a 50 milioni di chilometri ha detto 5 mila chilometri vicina insomma 5 miliardi di chilometri e 5 mila miliardi il 5 era giusto però il 5 c'era che poi in realtà basterebbe chiedere alle volte non è che ci voglia molto invece adesso dobbiamo dire anche le cose in positivo ecco c'è e fa piacere dirlo perché è proprio nostro il TG Leonardo che viene fatto appunto a Torino che invece è molto corretto almeno per quanto concerne notizie astronomiche devo dire che è molto corretto non dico infallibile però molto corretto ah beh qui è una foto che ci mostra dimensioni della Terra rispetto a Nettuno sappiamo che questi pianeti giganti sono circa 4 volte il diametro del nostro pianeta e poi abbiamo qui Plutone che è stato appunto come si chiama prima stromesso dal novro dei pianeti principali con la sua luna Caronte che fino a pochi anni fa era l'unica conosciuta io tra l'altro lo ricordo come ho fatto una campagna insieme ad altri per osservare appunto il sistema Plutone Caronte allo scopo di determinare variazioni di luminosità e ricordo che parlo del 91 circa 90-91 ricordo che con un rifrattore da 20 cm dall'osservatorio di Serra della Nave sulle pendici dell'Etna si riusciva a vedere a fatica proprio al limite devo dire di averlo visto proprio per me è stato proprio un limite incredibile riuscire a vedere questo evidente è proprio molto molto debole e poi è assolutamente riconoscibile dalle stelle perlomeno con un strumento di quel tipo tra l'altro ricordo che alle volte osservando appunto dalle pendici dell'Etna ogni tanto bisognava chiudere perché c'erano i ceneri del vulcano che venivano nella direzione dell'osservatorio lo bisognava chiudere tutto e aspettare che il vulcano si calmasse un po' ma purtroppo l'Etna è sempre molto attivo continuamente ed ecco qui gli anelli dei pianeti ancora oggi vedo che la stragrande maggioranza delle persone pensa che sia solo Saturno avere gli anelli come informazione comune c'è questa nonostante che ormai da un po' di anni sono stati scoperti quelli di Urano Giove e Nettuno però molti pensano ancora sia solo Saturno si vede che la cosa non è abbastanza pubblicizzata questa è la cometa di Alley la più celebre anche se quando è passata l'ultima volta nell'86 non era che molto luminosa si è vista poco e male dall'Italia questa invece è la McNaug del 2007 questa è stata molto ben visibile nella missione l'ostrale questa foto è stata fatta a Johannesburg da un appassionato che è partito apposta dall'Italia per andarla a vedere questo qui è un signore che ho il piacere di conoscere e che questo qui tra l'altro fa un lavoro un po' particolare cioè lui distribuisce i giornali a un suo furgone se ha chiesto un permesso quando ha saputo che questa cometa si è diventata ben visibile in Sudafrica è partito per fare queste foto quindi occorre una passione notevole a proposito di comete c'è adesso l'Artley 2 forse ne avete sentito parlare che però è abbastanza deludente e questa è una cometa che è deludente perché la sua luminosità è dovuta dal fatto che è vicino alla Terra quindi è molto diffusa molto sparsa la sua luce e non è nulla di notevole passiamo alle stelle questo è un disegno che ci mostra il cielo invernale abbastanza bucolico direi fa pensare un po' al passato con le costellazioni principali dove campeggia naturalmente Orione vedete la Via Lattea qui bella intensa ma in realtà la si può vedere intensa la Via Lattea se si va a una certa distanza dalle luci ad esempio pensate che a me è successo la prima volta che ero andato nelle Ande Cilene nel 1984 dalla feritura della cupola a un certo punto si era la Via Lattea nella zona dello scudo del Sagittario e io che non ero abituato al cielo australe francamente ho detto oh porca miseria stanno arrivando delle nubi bisogna chiudere questo per dare un'idea di quanto fosse intensa è incredibile sembra quasi un elemento di disturbo qui abbiamo una varietà di stelle vediamo il diagramma di Herzman-Rass il famosissimo c'è la sequenza principale qui abbiamo il sole poi abbiamo le giganti le super giganti le stelle nane e qui un po' di stelle particolarmente grandi vedete qui il sole fa una brutta figura perché è questo qua però poi si riprende una rivincita in basso dove abbiamo le stelle nane e il sole è questo in effetti abbiamo scoperto che il sole è poi una stella media adesso certo è ancora in auge l'addizione di stella nana gialla perché perché questa classificazione è stata fatta più di un secolo fa quando la maggioranza delle stelle conosciute era più grande del sole quindi giustamente tra le stelle conosciute era una delle più piccole tra le più piccole insomma poi con strumenti utilizzando strumenti di via via più grandi tecnologie migliori si è scoperto che vi è una selva di stelle minori del sole ma allora non si sapeva questa è un'immagine che io ritengo veramente molto molto importante e adesso vi spiego il perché ecco questa immagine per me è molto importante perché fa vedere veramente come appaiono i colori delle stelle cioè uno dice le stelle rosse pensa al rosso di un semaforo stella blu però questo è proprio un colore del genere in realtà non è che le stelle si vedono questi colori non so se voi ne avete mai visto soprattutto il blu questi sono i veri colori con i quali appaiono le stelle questo è molto molto fedele secondo me quindi quando vediamo le stelle diciamo blu in realtà sono così sono un bianco con un accenno di blu le stelle rosse non è che appaiono rosse proprio nel genere appaiono un qualcosa un rosato giallo carico arancione ecco il colore si nota sicuramente si nota però non è il colore come noi vediamo in un arcobaleno e questa mi sembra veramente molto istruttiva questa immagine perché ci fa vedere veramente come appaiono le stelle ecco naturalmente il colore dipende dalla temperatura superficiale abbiamo temperature quindi almeno 20.000 gradi che poi man mano scendono circa 10.000 7.000 6.000 e fino a 3.000 2.000 e poi una certa quantità di stelle doppie anche qui abbiamo caricato un po' i colori però bisogna dire una cosa nel caso delle stelle doppie i colori appaiono più accentuati per il contrasto quindi se una stella se noi prendiamo ad esempio questa stella qui gamma andromede e se escludiamo la stella principale non vediamo questa stella così azzurra quando c'è l'altra invece ci appare molto azzurra il caso più classico è il Bireo penso che molti di voi l'avranno vista l'avranno vista che è proprio abbastanza impressionante però questo è dovuto al contrasto e direi che stelle doppie sono effettivamente molto belle da vedere e noi abbiamo lavorato anche parecchio sulle stelle doppie per misurare il periodo orbitale della separazione all'osservatorio di Torino è un lavoro però purtroppo che non paga per così dire cioè uno deve lavorare anni per fare una pubblicazione quindi non è che sia molto remunerativo le stelle doppie comunque ne conosciamo visuali scusate ne conosciamo circa 80.000 qui abbiamo il campo enorme delle stelle variabili con la più famosa che è Algol è famosa perché è luminosa ma in giù quando è al massimo della luminosità è più o meno luminosa come una stella polare in grosso modo quando arriva al minimo è circa magnitudine 3,5 cioè 4 volte meno luminosa e questo succede circa ogni 3 giorni la durata è circa 9 ore questo perché c'è una stella più grande come dimensioni ma meno luminosa che le passa davanti e ce la nasconde quindi non si tratta di una variabilità fisica dovuta intrinsecamente alle stelle si tratta del fatto che c'è un oggetto che le passa davanti ecco perché varia la sua luce e il primo a capirlo è stato un giovane astrofilo inglese Godric purtroppo morto a soli 22 anni veramente giovanissimo che è data la spiegazione giusta del perché avviene questo comunque questo si doveva sapere anche dall'antichità perché il fatto che le fosse stata data il nome di algo stella del demonio vuol dire che gli antichi ci vedono qualcosa di sul furio in questa stella che non obbediva alle tesi aristoteliche secondo le quali il cielo era immutabile quindi non doveva variare perché si permetteva di variare luce se nel cielo perfetto dove tutto era immutabile ed eterno qui abbiamo un altro caso di una stella che invece varia proprio intrinsecamente proprio lei che varia in luminosità si gonfia e si sgonfia ed è la delta è una considerazione di Cefè un'altra stella famosa e come vedete cosa succede praticamente da una dimensione minore viene a assumere una più importante e queste sono le sue variazioni luminose quindi qui non c'è un astro che passa davanti ma è proprio la stella che varia abbiamo poi questi casi estremi dove una componente può essere un buco nero dove c'è un risucchio di materia della compagna un cannibalismo stellare per così dire e questa materia diciamo prima di cadere all'interno dell'orizzonte degli eventi emette una specie di urlo di dolore come radiazioni molto energetiche che noi possiamo captare e quindi possiamo sapere appunto che il compagno è un buco nero qui abbiamo la foto del pianeta di una stella e questo è un qualcosa veramente eccezionale cioè fino a vent'anni fa direi che un risultato del genere era fantascienza fotografare i pianeti di altre stelle una cosa veramente incredibile eppure con una serie di tecniche e con l'uso di grandi telescopi eccetera eccetera ci siamo riusciti qui abbiamo cancellato praticamente la luce della stella che è la beta pictoris e è stato possibile mettere in evidenza la luce di un suo pianeta questo è un risultato eccezionale credetemi veramente incredibile se facessimo vedere mi piacerebbe farlo vedere a un astronomo che era venuto da noi a Pino Peter van de Kamp negli anni 70 adesso ovviamente è mancato e lui faceva studi sulla ricerca di pianeti intorno a altre stelle ma senza mai vederli me ne intendo magari sarebbe svenuto se sarebbe una foto del genere bisogna fargliela vedere un po' alla volta scoprendo piano piano qui arriviamo al campo delle stelle con l'ammasso più celebre quello delle pleri questa qui è veramente eccezionale e se lo si vede da un cielo buio è fantastico purtroppo visto da Torino è molto deludente e devo dire che comunque in questi decenni l'illuminazione ha peggiorato molto le cose io ricordo che da Torino negli anni 60 voi avete presente dove è più o meno il grattacielo dell'Arancia da quella zona dove mi trovavo io che ripeto non ho una vista particolarmente acuta io arrivavo a vedere stelle di quinta magnitudine pensate adesso io arrivo non so alla seco 2,5 cioè una cosa pazzesca peggioramento che c'è stato e quindi questi spettacoli si possono avere soltanto da cieli molto bui comunque anche da cieli molto bui è difficilissimo vedere questa nebulosità questa non si vede di sicuro questa qua è quella di Mero è più la si può vedere da cieli proprio molto molto bui con una buona vista appena appena comunque e questo è un gruppo di stelle a circa 400 anni lucida da noi sono stelle giovani naturalmente queste i nostri migliori telescopi ne possono individuare circa 500 di queste stelle questo è invece un ammasso globulare questo è anche un oggetto molto bello ecco gli ammassi globulari per fortuna danno soddisfazione anche se il cielo è un po' inquinato perché occorre un certo ingrandimento un insieme di stelle quindi si vedono sempre meglio se il cielo è più buio questo è ovvio però anche un cielo che abbia un po' di inquinamento riesce ancora a farle vedere in maniera decorosa e sono praticamente dei grappoli di stelle che sono intorno al centro della via Lattea della nostra galassia noi ne conosciamo circa 120 grossomodo e ognuno ha almeno 100 mila stelle almeno poi abbiamo la celebre nebulosa di Orione questo è un disegno non è una fotografia è un disegno che ha fatto un appassionato molto bello ha fatto molto bene e qui adesso non si vede giustamente perché lui ha dato una rappresentazione giusta quando è molto luminoso qui è difficile vedere qui che c'è la stella quadrupla che anche con un piccolo telescopio si vede distintamente questa qui per vederla si vedrà bene fra un mesetto da novembre perché nella spada o nel pugnale di Orione come sappiamo ed è un ammasso di gas distante circa 1500 anni luce da noi e qui vediamo dove si chiama M42 ecco qua e qui c'è invece la testa di cavallo questo è un oggetto veramente difficile da vedere da fotografare no ma da vedere sì occorre un cielo estremamente buio e poi ancora magari l'uso di un filtro particolare avere una vista eccellente e poi si può vedere appena appena una specie di contorno qualcuno comunque ci riesce io francamente non ci sono riuscito devo ammettere ecco la nebulosa anulare della lira un oggetto eccola qua molto famoso anche questo perché è facile da vedere per fortuna forse tra le nebulose anulari è la più facile da vedere comunque sicuramente è una delle più famose cosa invece difficile da vedere qui è la stella centrale questa qua questa è molto debole questa qui è dovuta ai gas espansi da questa stella morente che ha proiettato nello spazio la sua atmosfera ecco perché c'è questa come dire questa ciambella e qui bisogna dire che alcuni grandi osservatori del passato si sono sbagliati notevolmente dicendo questa questa disco praticamente dovrebbe essere composto da tante stelline invece no è gas questo come come non so è successo anche a Messier quello che ha fatto con il famoso catalogo che aveva detto su M13 diceva una nebulosa rotonda che non contiene stelle in effetti contiene qualche centinaia di migliaia insomma succede succede un po' a tutti questa qui è un croce è delizia perché la gente che viene a vederla si aspetta a vederla così ecco vediamoci la grande galassia di Andromeda a me inventa le fotografie che figuriamoci a parte il fatto che un telescopio non la inquadra tutta cioè a parte il fatto non si vede così ovviamente ma inquadra un porzione del genere molte volte e quindi è difficile vederla di più queste sono due galassie satelliti io la migliore visione che ho mai avuto in vita mia di questa galassia è stata con un grandissimo binocolo da 150 mm quello mi ha dato più soddisfazione che qualsiasi telescopio perché guardando con i due occhi le immagini insistevano appunto entrambe sul cervello quindi ho avuto una visione poi qui non occorre un grande ingrandimento anzi questo è negativo è bene che l'ingrandimento sia molto modesto tipo 20 volte ad esempio 30 volte questa è una delle galassie satelliti ripresa con un grande telescopio che lo risolve già in stelle vedete sono stelle vecchie in questa galassia ellittica e questo è un disegno celebre che aveva fatto il Lord Ross quell'astronomo irlandese che si era costruito il telescopio più grande del mondo di allora 1845 è stato da un metro 80 ed era uno strumento che bisogna azionare con delle corde delle funi per fortuna lui era ricco aveva i servitori che facevano questo purtroppo non tutti gli astrofili erano questa possibilità e comunque era stato il primo a notare la forma spirale in una galassia che era la galassia vortice è stata giustamente chiamata la M51 e qui abbiamo poi un campionamento di altre galassie vedete questa qui è la vortice che abbiamo visto prima qui abbiamo una galassia barrata qui abbiamo una galassia spirale vista di taglio qui la galassia ellitica qui non è irregolare in questo caso la piccola nube di Magellano e poi una fotografia del cielo profondo ripreso del telescopio che ha mostrato una quantità incredibile di galassie praticamente su delle campionature poi proiettandole su tutto il cielo viene fuori 123 miliardi di galassie facendo appunto questo lavoro statistico ecco quindi una quantità non farla perché qui ci sono tantissime galassie non so se notate che è tutto pieno di galassie questa immagine questo è un altro disegno abbastanza classico che ci mostra la legge di Hubble praticamente le galassie che noi vediamo più sono lontane e più praticamente si allontanano da noi o viceversa se volete che lo stesso si allontanano appunto più velocemente in base alla distanza e questo tanto è vero che addirittura c'è una proporzionalità se una galassie è più lontana si allontana più velocemente e così via infatti la lunghezza vedete di questi segmenti ci indica una velocità di allontanamento in base allo spostamento delle righe spettrali qui addirittura è molto piccolo e qui invece quasi non si distingue qui invece comincia a essere notevole e questo ha permesso di risalire appunto alla teoria del Big Bang alla praticamente grande esplosione il grande botto come lo ha chiamato in tono un po' scansonatorio Fred Oil durante una trasmissione radiofonica dice questo grande botto e poi invece questo modo di dire mi ha fatto strada e è stato chiamato Big Bang lui sosteneva lo stato stazionario che ha retto fino al 65 cioè fino a quando Pence e Say Wilson lo scoprirono con quella strana antenna corno quella radiazione i3k sia pure inconsapevolmente loro stavano cercando questo fruscio cosa potesse essere se era dovuto alle cacche dei piccioni nell'antenna o qualcos'altro e poi è venuto fuori che era questa cosa qui perché dei fisici che erano tra l'altro vicini anche linearmente a loro facendo queste ricerche e gli altri inconsapevolmente li hanno scoperti e succede spesso nella scienza come è successo a padre Piazzi che ha scoperto l'asteroide il pianeta mancante mentre c'era la polizia celeste formata da un gruppo di astronomi tedeschi che la cercava e l'ha scoperta lui insomma anzi mi dicevano quando ero a Palermo che addirittura lui si era anche irritato col suo assistente cacciatore di colo cacciatore perché ha detto che aveva sbagliato a segnare la posizione di questo oggetto ha detto ma insomma fa attenzione guarda che hai sbagliato e invece era cera perché si era spostato non era che si era sbagliato bene io mi fermerei qua lasceremo la parola per curiosità varie grazie a tutti si si abbiamo finito io lo ringrazio mi sono dimenticato una cosa ho pregato il professore gli ha portati gli è dimenticati gli ha portati cartoline del 2009 e poi un foglietto di una cosa di cui parlerò su un volumetto che ho scritto sul 2012, perché sono tante queste cose che hanno detto che ci saranno queste trasformazioni, questo rinnovamento, lasciamo perdere la fine del mondo, non arriviamo a tanto, però degli scommolgimenti etc., allora ne parlerò appunto poco più di una settimana, vi lascio qui queste cose, poi se qualcuno è interessato, c'era una cosa che ho avuto il piacere di fare recentemente, che è un Atlante, scusate qui, che praticamente parla di un po' costellazioni e poi abbiamo come sono le costellazioni in realtà e al centro c'è una mappa lunare, come si può vedere con un piccolo strumento, se qualcuno di voi ha interesse, il prezzo di questo qui è 8 Euro, con un DVD sull'osservatorio 10, se qualcuno può interessare, invece queste altre cose qui prendetele liberamente, sì grazie, molto gentile!